Allora, dopo questo video ci sarà il video sulle letture del mese. Ho letto non soltanto saggi, quindi non soltanto saggi di sociologia con Recalcati, di filosofia, con altri libri della Marzano o Donne Invisibili, ma ho anche letto dei thriller. Quindi ho letto dei libri di Carrisi, se qualcuno ha già letto la saga di Marcus Sadi che cosa sto parlando, e ho finito di leggere Watcher Law di Bernard Corwell. Quindi, prossima settimana, recensione e per recensione. Diciamo, vi dico le letture che ho fatto in questo mese. Ma oggi volevo parlarvi, volevo diciamo, condividere con voi una mia riflessione personale. Nel caso ci fosse qualcuno che volesse appunto dire la sua, può benissimo scrivere qua sotto, soprattutto per quanto riguarda i, diciamo, le nozioni o i termini informatici. Perché parlerò di una cosa di cui ad oggi si indignano in molti e le persone che si indignano sono le stesse che creano questa cosa. Allora, di che cosa voglio parlare? Allora, del fenomeno e della diffusione di termini e di frasi quali YouTube Italia è una monnezza, YouTube Italia fa schifo, YouTube Italia è stata rovinata da quello che sta succedendo. Allora, io direi di iniziare brevemente, con brevi cenni di storia su come è nato internet e il perché è nato. Allora, io l'ho sempre detto, sarò ridondante e sono frasi che dico e ripeto perché ci credo. La internet per me è sempre stata intesa come una risorsa, come molte cose nasce come una risorsa. Siamo poi noi persone che la sfruttiamo e la trasformiamo in ciò che non è. Allora, internet inizialmente non nasce col nome di internet, ma Claim Rock iniziò a creare, diciamo, una fase embrionale di internet mediante la commutazione di pacchetti. Cosa succedeva prima? Allora, lo fa nel 1969. Prima esisteva la commutazione di circuito. Allora, vi sto parlando una che comunque di programmazione. Non sono un ingegnere informatico, non sono un informatico, non sono un perito informatico, non sono un programmatore informatico. Mi sento molto lui in questo momento. Non c'è Flash Gordon, non c'è Dottor Strange, l'uomo roccia, non c'è l'incredibile Hulk. Attenzione, non ci sono i fantastici quattro. Va bene. Ci sono io. Per fortuna non lo sono. La commutazione di circuito aveva delle pecche. Nel momento in cui la commutazione di circuito tipicamente era quella telefonica, cosa succedeva? Ci troviamo nel pieno periodo di guerra fredda, quindi ci troviamo nel periodo della guerra fredda. Quindi Russia e America sono, diciamo, alle strette. URS, diciamo, Unione Sovietica. E Stati Uniti d'America sono alle strette. Cosa succede? Che nella commutazione a circuito c'era un problema principale. Nel momento in cui un collegamento intermedio veniva a mancare o cadeva, veniva interrotta bruscamente, in questo caso la chiamata. Allora si è creata quest'altra tipologia. Allora, per inviare dei messaggi, Claybrock ha pensato alla commutazione di pacchetto. Cosa succedeva? Che dei messaggi digitalizzati, quindi stiamo parlando di dematerializzazione dell'informazione, venivano inseriti all'interno di blocchi chiamati pacchetti. Questi pacchetti al loro interno avevano già l'indirizzo di destinazione e parte del messaggio da inviare. Viaggiavano in forma autonoma e poi arrivavano a destinazione e l'host ricevente decifrava il messaggio. Cosa succedeva? Che viaggiando autonomamente, questi pacchetti di per sé potevano perdersi, avere degli errori ed essere poi decifrati male dall'host. Da qui poi in avanti ci saranno delle evoluzioni e verranno creati dei protocolli, come il Transport Control Protocol, scusate la pronuncia, il TPC o l'IP, che permettono appunto di, soprattutto per quanto riguarda spedizione e trasmissione di questi pacchetti, di risolvere gli errori. Da Claim Rock in poi, ci sono state altre creazioni, creata Arpanet, con un progetto finanziato dagli Stati Uniti d'America. Arpanet prevedeva appunto questo sistema di commutazione di pacchetti, però con più nodi, perché mi sono forse dimenticata di dire che questi messaggi venivano immessi nella rete mediante dei nodi. Ve sono stati creati più nodi, quindi più i pacchetti viaggiano automaticamente su più nodi, quindi se tu mi vai in modo molto becero, ve lo dico, a interferire su un nodo, il pacchetto viaggerà su un altro nodo, ok? Si è creato una rete, Aloanet, Aloanet creato perché colui che ha sviluppato questo modo di trasmettere i messaggi, diciamo, ha fatto questo esperimento nell'arcipelago guagliano, chiamandolo Aloanet. Ha creato la stessa commutazione di pacchetto che aveva creato Claim Rock, quindi lo stesso sistema di commutazione di pacchetto, in più, aveva creato un collegamento satellitare che permetteva di trasmettere i messaggi contenuti nei pacchetti anche sulla costa californiana, una sorta di Wi-Fi del plesso cene, parliamo così. Da qui in poi viene utilizzata Arpanet, poi viene utilizzata Ethernet fino agli anni 90 e poi più in là si parlerà di Internet. Allora, questi sono brevi cenni storici detti così, ok? Allora, quando si parla di Internet, c'è il cosiddetto, da noi si parla, grazie tram che passi, di dilemma digitale. Il dilemma digitale qual è? Il dilemma digitale è io, da giurista o in generale, devo lasciare comunque la libertà di espressione e di usufruire dei servizi agli utenti e poi parleremo anche dell'utenza, dall'altra parte però devo riuscire a regolamentare il tutto, questo è il cosiddetto dilemma digitale detto in soldoni. Partiamo da un altro presupposto. Allora, sono state create, poi da qui in poi c'è stata l'evoluzione di Internet, e sono state create i blog, sono state create social network come Facebook, Twitter e sono state create delle piattaforme che prevedono la condivisione di video, sono state create le piattaforme per la condivisione di video, video YouTube, o condivisione di audio, sempre YouTube, condivisione di immagini Instagram. Ok? Questo è un esempio. Cos'è successo? C'è stata un'evoluzione. L'utente, da diventare, diciamo, fruttore passivo di informazioni, è diventato colui che creava anche le informazioni, creava servizi. Quindi, da consumatore, si è passato anche ad essere il creatore, tanto che, quando si parla di YouTube, si parla di YouTube creators, cioè creatori all'interno di YouTube, creatori di contenuti. Anche qua ci sarebbe da dire su che cosa si intende per contenuto digitalizzato all'interno di YouTube e cosa non si intende per contenuto. Sostanzialmente, YouTube dice tutto ciò che non rispetta gli standard di YouTube non è contenuto quindi tu non sei uno YouTube creator. Allora, quindi, sostanzialmente, cos'è successo? Che non c'è più una mediazione, quindi senza filtri, colui che, prima appunto, dicevo, fruiva passivamente di servizi, diventa anche il creatore, no? Io stessa avevo un blog, il consumatore, da consumatore si diventa creatori di, appunto, blog, creatori di contenuti su YouTube, influencer mediante Instagram e così via, senza avere più dei filtri mediatici. Questo può essere un bene perché è ciò che Internet ha permesso di avere e ciò che gli ideatori di Internet da una parte volevano anche che ci fosse. Quindi, che Internet fosse utilizzato come risorsa sia per un'informazione maggiore e proprio per una comunicazione molto più veloce e rapida. Pensiamo soltanto a 50 anni, 70 anni fa, 50 anni fa, ma anche di meno quando per comunicare con qualcuno dovevi mandare la lettera, aspettare che la lettera arrivasse e semmai fosse arrivata tatatata, ad oggi con Messenger, con WhatsApp, con qualsiasi, diciamo, sistema di comunicazione digitale e telematico si riesce a comunicare. Da un presupposto, almeno, da una mia riflessione. Allora, YouTube è una piattaforma di condivisione di video, ok? Molti adesso dicono benissimo, questo tipo di YouTube non mi piace, perché la maggior parte dei contenuti che vengono forniti sono contenuti trash, contenuti polemici, flame o prank. Mi fa ridere utilizzare tutte queste parole in inglese, nonostante io non sia dell'epoca, diciamo, fascista, per cui era più importante parlare in italiano, ma mi fa ridere continuare a dire parole soltanto in inglese e probabilmente pronunciate anche male. Ho video di dissing. Allora, i prank sono gli scherzi epici finiti male che sono palesemente falsi, diciamocelo. Chiunque diciamo abbia un pochino di razziocinio capisce che quei video sono fatti apposta ma sono completamente montati ad arte. Però, quello è. Ci sono i video trash. Trash e sono quei video che possono creare quello che in inglese viene definito fringe, imbarazzo. Ok? Sono quei video che quando tu li guardi provi imbarazzo per quella persona. E di base sono i video che attirano di più. Come anche i video di dissing. Dissing vuol dire quando uno si dissa, questo era un termine che credo si utilizzasse nel rap, e quando qualcuno inizia a litigare e a discutere con un altro telematicamente, quindi virtualmente. Perfetto. Questi utenti, gli stessi che si lamentano di questi video, sono gli stessi che poi sotto determinati canali inneggiano e fomentano queste cose. Fomentano il trash, fomentano le polemiche, inviano screenshot di screenshot di altri screenshot, inviano audio a youtuber che magari si dissano tra di loro, polimizzano tra di loro. Quindi cosa succede? Tutti quelli utenti che si lamentano dicendo youtube Italia è diventata una monnezza mi fa schifo, in realtà sono, almeno a mio avviso, la maggior parte gli stessi utenti che poi creano quell'offerta, nel senso se tu vai continuamente a visualizzare video trash, video dove i personaggi perché io lo youtuber non lo conosco non mi sentirete mai dire quella persona ha fatto perché lo youtuber per me è un personaggio non lo conosco finché io non conosco la persona realmente per me quella persona sarà sempre un personaggio quindi se voi visualizzate i video di quei personaggi ovviamente se sono dei se io sono poniamo il caso io sono uno youtuber che monetizza quindi viene retribuito da youtube o da un network che ci sta dietro e quindi ho una retribuzione è un lavoro è inutile dire youtube non è un lavoro io non voglio che youtube ad esempio diventi un mio lavoro anche per un canalino piccolo ovviamente la mia utenza è minore perché parlo sostanzialmente di libri il mio canale nasceva 4 anni fa con dei video orribili in cui facevo montati malissimo di make up e poi ho capito che effettivamente probabilmente dovevo mandare avanti qualcosa che più mi garbasse che più mi garbava che era leggere comunque detto ciò sono gli stessi utenti che si lamentano poi continuare a dare visualizzazioni allora vi svelo una cosa la monetizzazione dopo lo scandalo pdp e logan paul non viene più data in base agli iscritti ma in base alle visualizzazioni ok più voi visualizzate quei video più quello youtuber continuerà a fare a quelli video o a mantenere quel personaggio perché ci monetizza e il suo lavoro è quello il consumatore chiede quello dall'altra parte il creatore di youtube fa quello che gli viene chiesto se la domanda è quella l'offerta sarà quella ad esempio ci sono meno visualizzazioni ci sono lo stesso tanto visualizzazioni ma rispetto dieci anni fa con Clio che ha iniziato a fare le prime make up review adesso ci sono molte più visualizzazioni per quanto riguarda i video appunto prank video dove si trolla la gente video dove si dissano video dove ci sono flame che vuol dire praticamente fare delle reazioni ad altri video commentandoli ovviamente hanno più visualizzazioni è inutile che l'utenza si lamenti di ciò perché se tu utente continui a dare visualizzazioni a questi personaggi ovviamente il personaggio e lo youtuber continuerà a fare quei video cioè se quella è la domanda ad esempio io youtuber faccio video polemici e vedo che ho un bel canalone e vedo che ho un bel seguito ok ho tante visualizzazioni quindi a fine del mese mi arriva lo stipendio da parte di youtube o del network che ci sta dietro nel momento in cui faccio un video di unboxing spacchettamento un video dedicato ai libri un video dedicato al mio cane eccetera vedo che ho minor visualizzazioni quindi se youtube è il mio lavoro il ragionamento che vado a fare più normale è benissimo la domanda è che viene posta la domanda maggiore stiamo parlando in questo caso è come se parlassimo di domande offerte in economia non è che dico che voi utenti chiedete direttamente fammi il video polemica ma la domanda maggiore è quella video trash video polemici video quindi sono gli utenti stessi tanto che non è che youtube è la monnezza gli stessi youtuber dicono non ce la facciamo più per quanto io ritenga che alcuni personaggi all'interno di youtube abbiano dei comportamenti discutibili comunque ci penserà nel caso youtube e se ci sono due youtuber due tre quattro cinque che litigano tra di loro non capisco il mettersi in mezzo da parte dell'utenza che manda screenshot manda audio e manda altre cose oppure il fatto che insultano insultano molto vengono creati account falsi per insultare non sto parlando di me sto parlando in generale per fortuna io ho un'utenza devo dire e non mi lascio qua per leccare cioè non sto qua a lecchinare ho un'utenza meravigliosa perché avendo anche un canale molto piccolo quando si sono verificati i casi in cui certe persone sono venute sotto i miei canali a insultarmi io ho ricevuto tantissima solidarietà da gente che mi segue dall'inizio e che mi ha detto vale lascia perdere c'erano gli stessi utenti che invece che aizzarmi dire si dai fai continua si fanno altri erano gli stessi mi dicevano ma lascia stare boh fine smettila e io ho seguito il loro consiglio quindi molti youtuber si sono lamentati anche del fatto che ricevevano minacce insulti e tutto ci tengo a precisare un'altra cosa allora prima di parlare poi degli youtuber eccetera altra cosa allora tutti quelli che scrivono sotto insulti sia su facebook in questo caso parliamo del mondo digitale ok su facebook su instagram su youtube eccetera insulti o se appropriano di immagini prese dal web dicendo è pubblico cari miei allora facebook e instagram se anche il profilo è pubblico l'immagine appartiene a facebook e all'utente che usufruisce del servizio nel momento in cui prendete quell'immagine e appropriazione in debita dell'immagine questo è chiaro non lo so ve lo dico altra cosa nel momento in cui diffondete nel momento in cui scrivete offese oppure ho letto di youtube e ho letto di utenti che davano del drogato drogata quindi mettete uno maschile femminile schizofrenico schizofrenica hai fatto questo hai rubato questi sono dei reati reati telematici ok non è che se avviene sul web non si hanno ripercussioni sulla realtà confondete il fatto che nel virtuale cioè sembra che siate su second life cioè che sia una seconda vita virtuale no il virtuale ha effetti anche sulla vita reale è giusto che gli youtuber vi vengono a dire quello che voi vedete quei 20 40 minuti che vedete ovviamente non sono io al 100% ma è normale qualsiasi persona normale lo capirebbe è anche vero però che se tu scrivi insulti in generale sto dicendo sul web gli insulti rimangono perché rimangono sappiate che gmail chi è che uno youtuber li riceve su gmail e rimangono anche se poi l'utente lo cancella il messaggio con l'insulto rimane commettete dei reati primo reato se accusate una persona di aver fatto quella cosa e non ne avete le prove cadete nel reato di calunnia e nel penale nel momento in cui dite quella persona è schizofrenica tu sei una drogata drogata o di merda è diffamazione tramite mezzostampa mezzostampa viene interpretato in modo estensivo perché ovviamente la giurisprudenza e anche le disposizioni legislative contenenti le norme si sono dovute attualizzare e diciamo regolare questa cosa quindi la diffamazione avviene anche in internet perché voi lo state dicendo praticamente in internet e nel momento in cui si scrive una cosa su internet o si condivide una cosa su internet quella cosa rimane in internet ok? anche se la cancellate rimane quindi prima cosa esistono i reati telematici il fatto che alcuni si approfittino del fatto che il dilemma digitale appunto il fatto che c'è una poca regolamentazione fa sì che voi non abbiate capito una cosa disposizioni legislative contenente norme e giurisprudenza sono due cose differenti la disposizione legislativa contenente norme appunto quindi la disposizione legislativa contiene le norme sono due cose differenti viene interpretata da dottrina e giurisprudenza in soldoni la dottrina sono i giuristi in soldoni la giurisprudenza sono i magistrati giudici togati che emettono le sentenze la giurisprudenza ultimamente si sta battendo molto su questo piano del bullismo e del cyberbullismo proprio per cercare di colmare le lacune che ci sono ancora all'interno delle disposizioni legislative quindi cosa succede che purtroppo il legislatore non potendo in questo modo passatemi il termine essere schizofrenico lui nel senso seguire in modo celere l'evoluzione di internet e di tutto ciò che avviene in internet lo sta facendo ma ovviamente lo sta facendo con i propri tempi perché comunque è vastissimo il territorio di diciamo è vastissima la regolamentazione che si dovrebbe fare dall'altra parte c'è la giurisprudenza che interviene ad oggi i giudici sono molto sensibili su determinati argomenti quale cyberbullismo appropriazione indebita di immagine sostituzione di persona eccetera quindi è vero youtube italia è una monnezza ma non è per colpa degli youtuber ragazzi se gli youtuber fanno video trash video polemici e ci guadagnano è perché siete voi che li seguite esempio la diva del tubo la diva del tubo io la seguivo mi piaceva il percorso che faceva anche quando parlava appunto di chirurgia plastica eccetera anche quando faceva i video rosiconi in france eccetera rispondendo in modo simpatico agli haters lei l'ha sempre detto io sono un personaggio poi io ho smesso di seguirla ok non mi sono più piaciuti determinati atteggiamenti e ho smesso di seguirla cioè nonostante questa youtuber è una youtuber che ha sempre detto io cavalco l'onda quindi se la domanda del consumatore che io vedo in base alle visualizzazioni che recepisco è fai più polemica fai più dissing farò quello perché io lavoro e guadagno tramite quello punto è un ragionamento che fila per quanto io non seguo questo youtuber un altro youtuber che non seguo più passionmakeup89 guarda sono dello stesso anno allora a me piacevano tantissimo le sue review non lo so perché mi facevano scassare quando facevo le review sui glitter erano meravigliosi mi veniva voglia tipo io sono appassionata di glitter dovrei vivere in un mondo di glitter nel momento in cui vedevo lei che si spalmava i glitter e li descriveva in un modo così magico che sarei entrata in casa sua a dirgli dammi tutti i glitter che hai ad oggi ovviamente c'è stata un'evoluzione del personaggio evoluzione che a me non è piaciuta ma non sono andata a scriverle mi fa cagare i video che fai vaffanculo eh stronza di merda bastarda e altri insulti mi sono disiscritta al massimo ho fatto un commento dicendo poi lei ha privatizzato il video dicendo a livello probatorio non hai niente evita perché rischi una querela punto non hai degli elementi di prova nessuno all'interno di internet un investigatopo ci sono i PM i magistrati inquirenti apposta ci sono delle apposite diciamo figure che sono preposte a fare le indagini gli investigatopo lasciamoli fare a loro ok senza denigrare la figura del PM ovviamente con questa frase quindi io ho smesso poi di seguire nel momento in cui Fashion Makeup 89 è sempre stato un personaggio polemico però poi quando si è andato oltre ho deciso di smettere di seguirla non per questo la condanno per la sua scelta ok non mi piace penso che lei continui a respirare come continuo a respirare io penso che questa cosa non è che stia lì a infliggersi a coltellate al corasson dopo che sa questa cosa ho smesso di seguirla semplicemente perché non mi piacevano i suoi video punto fine ma anche lei è sempre stata una persona che ha detto ragazzi il mio personaggio è questo poiché lei dica io sono una persona polemica io non posso dirlo non la conosco lo dice lei ma io non la conosco è un personaggio sicuramente molto polemico e vive di quello ultimamente i suoi canali sono quasi sempre incentrati su quello anche perché se notate nel momento in cui fa video di unboxing o spacchettamento magari ha meno visualizzazioni rispetto ad altri è normale che poi se io il mio lavoro è quello no sfrutterò quello non è normale che gli utenti vadano sotto a scrivere degli insulti molto molto beceri nella segreta speranza che tanto si perda nel web o che non abbiano ripercussioni perché ripercussioni le potete avere perfetto tutti invece quelli youtuber che vengono e vi dicono youtube italia fa schifo youtube america è meglio seriamente allora youtube america non so se qualcuno ha mai dato un'occhiata a youtube america allora io adesso dirò una frase per cui molti mi diranno hai scoperto l'acqua calda che è anche vero nel senso se me lo venite a dire vi dico è vera è una frase fatta quella che vi sto per dire youtube è lo specchio della società ma non della società italiana della società mondiale globale ok si parla di capitalizzazione capitalizzazione dell'informazione dell'informazione digitale allora avete presente Logan Paul vi dico soltanto che questo youtuber ne avrete sentito sicuramente parlare forse ne avevo già parlato è uno youtuber che ha avuto la geniale idea di andare nella foresta dei suicidi in Giappone fare tanto di miniatura quindi editare il video mettere come miniatura e chi che fa youtube ed edita i video sa cosa vuol dire fare la miniatura quindi l'ha dovuta fare con photoshop utilizzando comunque un editing di foto ha editato anche là la foto e con lui è vicino al cadavere con tanto di titolo in blocco maiuscolo con su scritto ho trovato un cadavere nella foresta dei suicidi e youtube l'algoritmo di youtube se ne è accorto dopo un giorno e mezzo quando ormai il video aveva ricevuto quasi un milione e sei un milione virgola sei di visualizzazioni e in questo video becero logan paul si mostrava vicino al cadavere impiccato quindi a una persona che si era impiccata derideva il cadavere e rideva un video lunghissimo che logan paul è stato costretto a togliere lui dice che l'ha tolto ma è stato costretto a togliere perché finché ha potuto ci ha monetizzato altra cosa da qua poi mi chiedo perché ad esempio io adesso dovessi scrivere youtube monnezza lo devo scrivere con gli 0 e con i 4 per un semplice motivo se no youtube non me lo fa visualizzare mentre invece youtube ha permesso che per un giorno e mezzo ci fosse un video dove una persona derideva un suicida e tutta la sua famiglia l'algoritmo di youtube non se n'era accorto però quando ho fatto il video sui miei disordini alimentari l'algoritmo di youtube se n'è accorto subito e mi ha bloccato la visualizzazione del video mettendolo vietato ai minori di 18 anni queste sono delle tante incoerenze di youtube anche perché logan paul aveva un contratto con la disney ok un altro personaggio ks i penso si pronunci così che dista tutto il tempo logan paul quest'altro personaggio che è da gennaio sta cercando di ripulire la sua immagine anche perché la disney gli ha fatto il ditone medio ha perso tutti i contratti youtube non so se lo faccio monetizzare o meno ma comunque gli ha lasciato il canale gli ha lasciato il canale questa persona sta continuando a fare video e questa persona è la stessa che ha fatto degli altri video dove utilizzava delle donne come biciclette dicendo le monto come bici le monto come bici ks i è un altro youtuber che si è messo a distrarre con logan paul dicendogli la tua ragazza è una p mi deve soltanto succhiare m e ci sono tanti altri video di ks i se volete andate a vederli e vedete che personaggio è poi ci sono tantissimi troll su youtube america basterebbe vedere quello di quella ragazza che un anno fa è ad oggi arrivata in italia questo meraviglioso test del dna che non ha nessuna base scientifica ma che viene fatto da molti youtuber come uno scherzo come un gioco e poi c'è questa ragazza che dice i'm black ovviamente ha scatenato l'ira di tutta la comunità afroamericana perché trollava queste persone dicendo i'm black mentre prima diceva la parola con la n che in america non si può dire lei praticamente con questa app aveva scoperto di essere a sua detta al 100% afroamericana e lei è caucasica però io posso anche dire perfetto la genetica fa anche sì che dopo tante generazioni tu possa essere i'm black yes tu possa essere you are black però con che pronuncia lo dico però la domanda è hai fatto un test del dna vero per poter fare questa affermazione o ti basta un'applicazione questo personaggio è un troll la comunità afroamericana si è indignata per questa cosa perché comunque stanno battendo per dei diritti e lei continuava a dire non diceva soltanto i'm black le diceva i'm a nigga che in inglese e in americano è una cosa che non si dice ok quindi non è che youtube italia è una monnezza è proprio youtube essendo lo specchio della società è una monnezza perché mi dispiace dirlo le persone sono una monnezza l'umanità non esiste più io ho visto persone che su facebook dopo che vabbè vi parlo di italia dopo che hanno visto immagini di bambini annegati si sono permessi quando io ho pianto guardando quei video loro ridevano e hanno scritto oppure mettevano in dubbio la morte di questi bambini in italia c'è gente che dice che le fake news è giusto diciamo c'è gente in italia che dice che è giusto divulgare le fake news e le bufale ripeto non parlo di latticini perché alla fine non fanno poi così male quello che la gente vuole sentirsi dire quindi quello che mi chiedo io è youtube italia che è una monnezza o siamo noi che siamo una monnezza a voi l'ardua sentenza